Poliziesco al microscopio è il titolo del primo gruppo di puntate, sono 13, che l'autrice René Reggiani ha presentato nel 1980 ai microfoni di Radio 2. Una corsa abbastanza dettagliata, dal precursore di tutti i polizieschi, un personaggio vero realmente vissuto, Jean-François Vidoc, fino a Nero Wolf, passando per il grandissimo Sherlock Holmes, e poi ancora Philo Vance, Padre Brown, Poirot di Agatha Christie e la furba Miss Marple. Tutti personaggi notissimi agli appassionati che appartengono al cosiddetto poliziesco all'inglese, cioè a quel tipo di giallo dove il detective si affida alla sua meravigliosa capacità di deduzione, o meglio di induzione, ossia quell'abilità analitica che lo fa risalire da uno o più particolari alla scoperta della verità. Poliziesco al microscopio, storie, retroscena, personaggi, ambienti. Testi e presentazione di René Reggiani, regia di Marco Lami. In questo numero, eccessi e debolezze dei detectives superuomini, donne, tavola, fumo. La mia prima impressione, nell'aprire la porta, fu che fosse scoppiato un incendio, poiché la stanza era talmente impregnata di fumo che la luce della lampada posata sul tavolo ne era offuscata. Nell'entrare, però, le mie ansie si placarono. Era solo lacre esalazione del tabacco fortissimo, ordinario, che mi aveva preso alla gola e mi aveva fatto tossire. Nella foschia, ebbi una vaga visione di Holmes in veste da camera, raggomitolato in una poltrona, con la pipa di terra nera tra le labbra. Vari rotoli di carta lo circondavano. È una scena, questa descritta dal Fido Watson, da far star male i non fumatori e, forse, anche i fumatori. Se a questo si aggiunge che la prima pipa della giornata di Holmes, quindi al mattino, si compone di tutte le cicche e i mozziconi del giorno prima, accuratamente raccolti e messi a essiccare in un angolo della camminiera, l'idea di quel concentrato di nicotina e nicotina di tabacco fortissimo, ordinario, fa addirittura caponare la pelle. Tranne qualche iniezione di cocaina di tanto in tanto, Holmes non aveva vizi e si rivolgeva alla droga unicamente per protestare contro la monotonia dell'esistenza quando non aveva casi interessanti sotto mano e quando nei giornali non trovava nulla che attirasse la sua attenzione. Che Watson, a un certo punto, ed esattamente all'inizio del racconto, la faccia gialla, se ne esca in questa candida affermazione, suona quasi comico. Tanto più che siamo testimoni dei suoi sforzi, come medico e come amico, per guarire Holmes dal vizio della droga. Quanto al vizio del fumo non possiamo dire altrettanto, salvo una scherzosa allusione di Holmes stesso, né l'avventura del piede del diavolo, circa la sua autointossicazione tabagica. Il fatto è che Watson fuma a sua volta, e lo sappiamo fin dal loro primo incontro in uno studio in rosso, quando i due entrano in trattative per dividere lo stesso appartamento al 221B di Baker Street. Ma spero che non le dia fastidio l'odore del tabacco forte. Io fumo sempre tabacco da marinaio. D'altra parte è più che certo che se Watson non fumasse, trovandosi immerso nelle nuvole di fumo di Baker Street, il risultato per la sua salute sarebbe identico. La tossicità del tabacco è molto forte. A questo va aggiunto, come dicevo prima, apparentemente scherzando, ma non scherzando affatto, che è praticamente l'unica droga nociva per terze persone. E il livello di protossido d'azoto in una stanza densa di fumo di sigarette può superare i limiti considerati dalle leggi su un inquinamento atmosferico. Non dimentichiamo che l'uso del tabacco, diffuso in Europa dall'America verso la fine del 1500, viene sottoposto a feroci repressioni. In Cina e in Turchia i fumatori sono condannati a morte, mentre in Russia gli si taglia il naso e in Hindustan il labbro. Egregi signore, e diciamolo pure, egregi signori, a mia moglie è stato proposto che io, a scopo di beneficenza, tenessi qui una conferenza di propaganda. E perché no? Si deve fare una conferenza e facciamo una conferenza. Per me è proprio lo stesso. Come tema della mia odierna conferenza io ho scelto, diciamo così, il danno che arreca all'umanità l'uso del tabacco. Anch'io fumo, ma mia moglie mi ha ordinato di tenere oggi una conferenza sui dannosi effetti del tabacco e quindi non c'è niente da obiettare. Dobbiamo parlare del tabacco? E parliamo del tabacco. Così, per esempio, se si mette una mosca in una tabacchiera, la mosca muore. Probabilmente per shock nervoso. Il tabacco è soprattutto un vegetale. L'abitudine moderna fa sì che non si faccia più caso al consumo di tabacco delle cosiddette innocenti sigarette, né si taglino più teste, nasi o labbra. Ma è indubbio che il tabacco fa male, per dirla con Ciecov e con quella ruffone patetico del suo conferenziere. Ne è consapevole anche Holmes che, sempre durante l'avventura del piede del diavolo, richiesto di che cosa intenda fare circa un delitto avvenuto in cornovaglia, sorride e risponde. Credo, Watson, che riprenderò la mia vecchia abitudine di autointossicazione tabagica, che lei ha così spesso e così giustamente condannata. La risposta lì per lì sembra assurda. Invece è facilissima da decifrare per qualunque patito di Sherlock Holmes. Il grande detective, infatti, non riesce a pensare se non fumando accannitamente sigari e sigarette, ma soprattutto le sue molte e famosissime pipe. Quella di terra nera che funge da consigliera nei momenti difficili, quella di gesso, quella di radica e quella di ciliegio che alterna le altre quando è di umore più dialettico che contemplativo. Può capitare che vada raccattando i cuscini di tutta la casa per costruirsi una specie di cuccietta orientale, dentro la quale si insedia gambe incrociate, con le pipe e un orribile trinciato ordinario. E lì rimane, magari una notte intera a fumare, immerso in una densa nube di tabacco, silenzioso, immobile, gli occhi fissi astrattamente ad un angolo del soffitto, i tratti forti, aquilini, messi in rilievo dalla luce. È più che certo, comunque, che le ispirazioni e le soluzioni dei problemi gli vengono fumando, fumando in modo da suscitare in noi la sensazione del fumo come droga. Al professor Salvatore Platania, psicanalista, a proposito del fumo e della intossicazione tabagica, come la chiama Sherlock Holmes. Vorrei chiedere, io sono convinta, assolutamente, non solo io, che il fumo è una droga, una droga anche nociva, anche nociva per terze persone. Lei non pensa che il vizio del fumo, lo chiamo proprio vizio, non sia una forma di insicurezza che i fumatori si illudono di dominare così, accendendo le sigarette, continuando a fumare? Sì, è senz'altro un'insicurezza, ma è soprattutto l'espressione di un'ansia che si cerca di controllare dominando un oggetto che possiamo contenere tra le mani e quindi possiamo misurare, osservare attentamente, piuttosto che avere a che fare con una realtà esterna più facilmente ritenuta a torto, pericolosa, o tale da poterci sfuggire. oltre a questo naturalmente c'è anche l'idea di potersi riempire di fumo quasi a nutrirsi di qualche cosa che viceversa appunto non è l'arrosto ma è il fumo. Ecco, allora questa cosa che sarebbe un po' in contrasto con l'infallibilità dei detective può invece essere capita sul fatto che la tensione viene un po' allentato, perlomeno deviata in quel momento la tensione esterna di una cosa che loro devono sbrogliare e viene concentrata su questa tensione di fumo, eccetera. Certo, inoltre le nuvolette di fumo per qualche verso è come se permettessero al fumatore di concentrarsi su un mondo ancora fumoso, oscuro, non chiaro che deve per qualche verso assumere dei contorni più netti, più precisi. Esatto. Quindi probabilmente Sherlock Holmes quando fuma tanto si giova di questa di quest'aria artificiale l'aria fatta piena di fumo proprio perché partendo da questa situazione vuole vederci più chiaro. La ringrazio, ringrazio il professor Salvatore Platania. Un'altra pipa famosissima? Eeeh che coro Megre certo va bene va bene lo sapevo che lo sapevate la pipa di Megre Megre senza pipa non sarebbe Megre quella pipa che il commissario fuma in continuazione ma non osa accendere di fronte a qualche personaggio di riguardo diciamo così o di fronte a gente che soffre o di fronte al morto di turno. Il commissario sembrava esitante cambiò marciapiede si fermò per vuotare la pipa contro il tallone e per riempirne lentamente un'altra. C'era nel suo atteggiamento qualcosa di infantile che riempì di tenerezza alla moglie. La pipa di Megre mi dà la sensazione di un caminetto personale che il commissario si porta sempre addosso confortante caldo accanto al quale si può meditare che anzi aiuta a meditare anche quando soprattutto quando bisogna curarla accenderla riaccenderla vuotarla riempirla di nuovo con una pazienza che fa invece parte di un rito gratificante. Sono molto lieta della vostra visita signor Vance avevo ben capito fin dalla prima volta che vi vidi che non eravate un poliziotto immaginate un poliziotto che fuma le regie. Già Filo Vance il più nevrotico di tutti i grandi detective non potrebbe mai armeggiare con una pipa non ne avrebbe la pazienza e così manda continui anelli di fumo dalle raffinatissime sigarette regie. E' divertente immaginare il monocolo di Vance appannarsi di indignazione di scherno se vedesse Sherlock Holmes di prima mattina impiastricciare la pipa con gli avanzi del giorno avanti delle cicche di quel suo orribile tabacco di quinto ordine. A cena mentre mangiavamo rognone d'agnello alla griglia con una salsa inventata da Wolf e da Fritz Wolf mi spiegò che tutto ciò che bisognava sapere di una qualunque società umana era quello che mangiava se si sapeva quello che mangiava si era in grado di dedurre tutto il resto la cultura la filosofia l'etica la politica tutto me la godetti un mondo perché le interiora erano tenere e saporite e la salsa una delle migliori di Fritz ma mi domandai come diavolo si faceva sapere tutto di Wolf basandosi su quello che aveva mangiato negli ultimi anni decisi che si sarebbe dedotto che era morto. Nero Wolf non solo non fuma ma detesta il fumo in compenso mangia in modo sopraffino come tutti sappiamo grazie alla sua personale competenza e a quella del cuoco maggiordomo lo svizzero Fritz Brenner ma anche in grande quantità come afferma il biografo Archie Goodwin il fatto è che anche Archie Goodwin non è da meno di Wolf primo perché apprezza molto i menù di Fritz secondo perché come quantità di ciò che ingurgita non scherza nemmeno lui quando andai in cucina per dire a Fritz che avremmo fatto colazione a luna in punto perché alle due avevamo un appuntamento sorse un problema per Wolf avrebbe preparato un omelette speciale che aveva appena inventato ma per me sarebbe andata bene o era meglio che mi preparasse del maiale arrosto gli domandai che cosa ci avrebbe messo nell'omelette e lui rispose quattro uova sale e pepe una noce di burro dragoncello due cucchiai di panna due cucchiai di vino bianco venti funghetti un cucchiaio di scalogno tritato dissi che secondo me tutta quella roba bastava per due ma lui rispose che mio Dio no sarebbe bastata appena per il signor Wolf ne volevo uno anch'io di omelette dissi dissi mi avvertì che all'ultimo minuto poteva decidere di aggiungerci un po' di marmellata di albicocche e io risposi che ero disposto a correre il rischio a parte il fatto che ho approfittato per darvi una delle ottime ricette di fritz bastante per due persone ben inteso e forse senza correre il rischio della marmellata di albicocche come si vede Archie Goodwin se la batte bene in quanto a tavola con il suo capo soltanto fa una precisazione lui era un assaggiatore e io un inghiottitore non che io non sapessi distinguere il buono dal cattivo dopo sette anni di educazione alla cucina di fritz riuscivo addirittura a distinguere l'ottimo dal superlativo ma restava il fatto che mentre per Wolf il cibo era destinato soprattutto alle sue papille gustative per me era destinato alla pancia non ci sono dubbi il gusto deve superare la quantità ma non è forse vero che molte volte la descrizione letteraria di una ricetta o la fotografia a colori di un piatto particolare o magari semplicissimo possono essere più allettanti che il piatto stesso quando lo si mangia nella realtà provate a pensare all'immagine di un pollo arrosto per esempio dalla pelle croccante circondato da patatine novelle e accanto in un'insalatiera in divia crescione fettine di finocchio riccioli di carote di carciofa e di sedano crudo oppure lo stesso pollo vediamolo lesso più o meno comodamente sdraiato su un cuscino di risotto al parmigiano e ricoperto da una bechamel arricchita da tuorlo d'uovo e formaggio d'accordo viene a tutti la cosiddetta colina in bocca ma se poi il pollo è di quelli allevati forzatamente con ignobili mangimi e sa di pesce beh allora è meglio non assaggiarlo e gustarselo solo con la fantasia no? chiedo anche Nero Wolf come tutti o quasi grandi detective è misogino a oltranza ne parlerò in un'altra puntata in compenso è noto è un maniaco della buona tavola qualità ma anche quantità il cibo può essere una sostituzione del sesso come e perché? beh la domanda è piuttosto complicata io cercherò di rispondere in brevemente e così senza forse approfondire troppo un argomento così grosso purtroppo il tempo che abbiamo ma in linea di massima intanto chi si accosta con piacere alla buona tavola e cerca di supplire comunemente si dice così a un bisogno che ha di essere voluto bene e compensa con gli oggetti quel vuoto interno che è un vuoto fatto di bisogno di calore bisogno di affetto bisogno di essere accudito e poiché nell'infanzia questa persona probabilmente non ha avuto quel calore e quell'affetto che desiderava cerca di poterlo recuperare dalla realtà esterna realtà esterna che a volte può essere sentita come minacciosa quando è costituita da persone e viceversa può essere sentita come dominabile quando è costituita semplicemente da cose un bel piatto di pasta asciutta un tacchino una ragosta è qualche cosa che può essere dominata può essere preparata cotta e conquistata abbastanza facilmente infatti poi Nero Wolf è anche cuoco insomma lui non solo fa delle ricette non solo ma questo oggetto d'amore può essere introdotto dentro il corpo può essere preso nel proprio interno e non più abbandonato ecco sì un contatto proprio diretto diretto col corpo questo contatto diretto che è basato sulla bocca ci fa subito porre mente al primo rapporto che il bambino ha con la mamma con il seno della mamma in cui l'amore è dato proprio dall'introdurre il petto della mamma e il latte nell'interno del bambino questo atto è un atto d'amore e il bambino lo percepisce proprio come l'amare la propria mamma esserne amato dalla mamma l'adulto non può più confessare apertamente questo suo bisogno di dipendenza da antichissimi ormai affetti materni e dichiara semplicemente di essere un ghiottone senta questa seconda domanda premetto subito che è un po' una butade però mi divertiva chiederle questo siccome secondo me l'immaginazione può far gustare quasi meglio della realtà quasi quanto o meglio anzi adesso questo da vedere un piatto o una ghiottoneria è possibile in quel caso avere le stesse reazioni fisiche che se si mangiasse davvero per esempio dico ingrassare non dico di un chilo ma di qualche etto o a rovescio farsi venire l'orticaria ma l'orticaria è facile può anche accadere addirittura si possono avere reazioni fisiche io ricordo una volta ero seduto a tavola c'era un bel tartufo una persona semplicemente alla vista del tartufo si sentì male si sentite male ma poi c'è anche il fatto che tutti quanti sappiamo quello che si chiama la colina in bocca e guardare un cibo ci predispone ci sono stati degli esperimenti facilmente noti quelli di Paoloff i riflessi condizionati per cui al suono di un campanello o alla vista di un cibo tenuto tuttavia ben lontano dal cane il cane emetteva saliva salivava la colina la colina in bocca la colina in bocca certo e poi un altro modo di assimilare il cibo piuttosto raro è quello che possono avere tutti coloro che maneggiano diciamo così per lavoro per professione delle sostanze alimentari per esempio il macellaio può nutrirsi semplicemente maneggiando quarti di carne sto scherzando sarebbe un'idea che risolverebbe molti problemi su un'altra butade certo ringraziamo molto il professore Salvatore Platania ma filo Vans l'esteta il fascio di nervi raffinato batte il grassone inamovibile per un'incollatura sul fatto culinario infatti chiuso in una cantina da gente incline alla vendetta per essersi vista scoperta in operazioni poco chiare Vans con la massima calma dice di aver fame e chiede che gli servano un Omar la Turc ossia una ragosta la Turca e una bottiglia di Chauvenet Soave è più eccentrico che trovarsi sempre a casa propria la tavola imbandita dal Fido Fritz abbiamo trascorso un magnifico pomeriggio piccola violazione di domicilio io e Van siamo stati chiusi in uno scuro sotterraneo roba dal libro giallo economico proferito il tuo nome caro Marca non sia quello del procuratore distrettuale di New York apriti sesamo siamo stati cerimoniosamente per non dire contritamente rimessi in libertà e adesso vuoi venire a pranzo nella mia umilissima dimora alle otto e mezzo vorrei dedicarmi a un canale alla Molière e a una buona bottiglia di Chateaubriand se poi avranno se poi avranno sete berranno champagne di data magari Paul Roger 1904 altre volte caffè turco preparato dal domestico curry oppure cognac napoleon 1809 Philippe Marlowe mentre attacca la solita bistecca con patatine o l'ennesimo panino fra un pestaggio dato e uno subito forse un po' invidioso considera secondo il suo creatore Raymond Chandler considera dicevo un personaggio pomposo e balordo e poi si consola preparando un eccezionale caffè all'italiana senza fondi di caffè a cui per la cronaca aggiunge zucchero e panna e ci incute così un sacrosanto terrore per il resto dei nostri giorni del caffè americano ai duri piace il whisky non ha torto del resto salvo per la quantità eccezioni Archie Goodwin che alla birra a fiumi del grande Wolf oppone il latte Poirot lo metto con la testa a uovo i grandi baffi uscito dalla penna di Agatha Christie fa servire dall'impeccabile cameriere Georges che fa il trio con Fritz di Wolf e Curry di Philo Vance del tè agli amici inglesi ma riserva fragrante cioccolata in tazza per sé e con ragione visto che la cioccolata belga è migliore persino di quella svizzera anche un'operazione banale come la cottura di un uovo mio caro Watson richiede un'attenzione conscia del fluire del tè a parte i duri della scuola americana di Hammett e di Chandler è una tradizione tutti gli investigatori e i poliziotti amano la buona cucina compreso Sherlock Holmes che sgranocchia abbondanti prime colazioni e ogni tanto alla fine di un problema particolarmente difficile si offre e offre al fido Watson una buona cenetta in un ristorante che potrebbe essere italiano Marcini Sherlock Holmes quando è in grande tensione non mangia perché in quel momento non può sprecare energia e forza nervosa per digerire tutto al contrario secondo Goodwin del ciccione inamovibile quando Wolf non sa che pesci pigliare consuma energie nello sforzo di non pensare di farli stare tranquillo e la fatica lo fa mangiare di più quanto è maigret a parte i più che famosi panini della Brasserie Dauphine accompagnati da birra o caffè con i quali è costretto talvolta a sostituire gli ottimi pranzetti della signora Maigret ama la buona cucina quella familiare e non per questo meno gustosa anzi c'è una specie di sana gara con gli amici Pardons per presentarsi vicendevolmente dei piatti inediti a cui Maigret ripensa mentre se ne va per una Parigi gelida sotto la minaccia dell'ennesimo raffreddore che tenta in vano di prevenire o di contenere con qualche grog bollente o con il Calvados Vai in convento Ophelia perché vuoi essere madre di peccatori o se vuoi sposarti assolutamente sposa un pazzo già che i savi ben conoscono quali mai mostri tu puoi far di loro lo dice Amleto ben inteso ma potrebbe stare tranquillamente in bocca al grande misogino Sherlock Holmes al grande misogino Nero Wolf al grande misogino Philo Vance la donna è un ostacolo la donna impedisce le grandi azioni potrebbe Amleto sposato con l'appetitosa Ophelia e magari padre di alcuni pargoletti essere ancora un giustiziere molto difficile meglio che Ophelia vada in convento lo stesso vale per i superuomini del poliziesco Nel poliziesco non ci deve essere una storia d'amore troppo interessante lo scopo è di condurre un criminale davanti alla giustizia non due innamorati all'altare Questo è il punto numero 3 della tavola delle leggi 19 punti più un appendice per scrivere il poliziesco inventata da Van Dye nell'autore di Philo Vance Philo Vance aspettavo in sala da pranzo desideravo vedervi prima che parlaste con gli altri ditemi perché mi avete fatto soffrire tanto So di aver riferito ma le circostanze lo esigevano vi prego di credere che io so molte più cose di quanto non possiate immaginare Non sono certa di capire bene ma desidero che sappiate che confido in voi nessun uomo mi ha mai interessata voi siete il solo uomo fra quelli che conosco che potrebbe starmi a cuore Aspita ma che cosa succede questa è una dichiarazione d'amore bella e buona dove è andata la severa legge della tavola di Van Dyn niente paura Philo Vance resiste e perché? perché? Gli affetti di un uomo coinvolgono gravissime responsabilità ecco perché a volte dobbiamo rinunciare alle cose che più ci stanno a cuore Anche per Sherlock Holmes è la stessa cosa ce lo dice chiaro Watson Ogni specie di emozione e l'amore sopra ogni altra era aborrita da quel cervello freddo preciso mirabilmente equilibrato Io credo che egli fosse la macchina ragionatrice e osservatrice più perfetta che si sia mai vista al mondo ma come innamorato si sarebbe messo in una posizione falsa non parlava mai delle cosiddette dolci passioni se non con scherno o irrisione da grande osservatore le trovava preziose costituivano ottimi mezzi per togliere il velo ai motivi e alle azioni umane da ragionatore sperimentato invece a mettere tali intrusioni nella struttura delicata e sapientemente composta del proprio carattere sarebbe stato a portarvi un elemento disgregatore che avrebbe gettato l'ombra del dubbio su tutti i suoi risultati mentali per una natura come la sua un'emozione violenta era peggio che grattare malamente uno strumento sensibile o rompergli una delle sue potentissime lenti di ingrandimento l'elemento disgregatore corrisponde in pieno a quella definizione della donna ossia la donna castrante che dà Freud a me ossia la donna impedirebbe all'uomo come dice anche Shakespeare di compiere se stesso e le sue grandi azioni il fatto è che l'uomo spesso ha paura della donna ma proprio per questo la considera infinitamente per quei poteri appunto che la donna ha e con i quali molto spesso deve fare i conti l'uomo cerca di distruggere la donna di tenerla schiava di toglierle energia capacità è una lotta coltello dove non si sa chi in realtà sia il più forte al superuomo poi davvero non si addice la donna se non a costo della sua superiorità quindi il superuomo dà ancora più importanza alla donna dell'uomo normale altrimenti non la temerebbe così fa anche Sherlock Holmes superuomo per antonomasia così fa Nero Wolf e soprattutto il suo braccio destro Archie Goodwin e lo vedremo in un'altra puntata così fa Philo Vance che a buoni conti benché molto attratto dalla bella Zaglia Graham quella della dichiarazione rinuncia all'amore ancor più al matrimonio e parte per l'Egitto evitando così a Zaglia Novella Ophelia di andare in convento l'amore è uno stato emotivo e tutto ciò che è emotivo si oppone a quella fredda ragione che io pongo sopra ogni altra cosa al mondo ecco perché io non mi sposerò mai appunto per non essere costretto ad alterare le mie facoltà mentali il superuomo non dovrebbe avere timori oppure si potrebbe dimostrare che non è affatto un superuomo è possibile infatti che un superuomo non possa dominare se stesso al di là della donna al di sopra appunto delle eventuali emozioni che la donna suscita o dobbiamo pensare che Sherlock Holmes se gli altri siano come quei pesci tropicali che se provano anche il più lieve timore per la compagna sentono spegnersi ogni possibilità sessuale per Nero Wolf il sesso l'abbiamo sentito è sostituito dal cibo quanto Holmes lasciando da parte la battuta di Rex Taoth l'autore di Nero Wolf che sostiene che Watson è una donna si potrebbe supporre che per lui sia la demoniaca nociva la siringa della droga la sostituzione del sesso restano Philo Vance che torna dall'Egitto molto abbattuto e pallido ancora innamorato di Zaglia e quel gran furbo di Maigret già perché tutti questi superuomini con la loro misoginia acuta come ho già detto rendono un fondamentale omaggio alla donna la considerano così importante da poter essere in qualche modo un ostacolo con la propria personalità alla loro grandezza Maigret invece come dimostrerò nella puntata dedicata a lui è l'unico vero accanito antifemminista già perché la donna la sposa e la riduce come lui ha ridotto quella povera Madame Maigret un'ombra senza fiato e senza ossatura avete ascoltato Poliziesco al microscopio storie retroscena personaggi e ambienti testi e presentazione di René Reggiani in questo numero eccessi e debolezze dei Detectives Superuomini Donne Tavola Fumo con le voci di Giorgio Albertazzi Gianni Bonagura Erasmolo Presto Dario Penne Mariano Rigillo Oreste Rizzini Sonia Scotti è intervenuto Salvatore Platania hanno collaborato per la parte tecnica Stefano Acciarini e Enzo Sinatra regia di Marco Lami Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti